Buongiorno Bruno Piazza dal Manning Restaurant dell'hotel Manning di Milano, oggi vi presento l'orecchia d'elefante. Si incide la carne per togliere l'osso, si para dal grasso e poi si taglia in due punti. Così. Adesso la battiamo. Bene, ora passiamo alla panatura della carne, un pizzico di farina, sale, andiamola così. Poi la passiamo all'uovo precedentemente battuto. La mettiamo nel pane grattato. Adesso che è panata la battiamo per togliere il pane superfluo e gli facciamo un piccolo decoro. Mettiamo un goccio d'olio di semi. Una noce di burro. Ora che il burro si è sciolto, mettiamo la nostra cutuleta. Con il cucchiaio cicatrizziamo queste aperture dell'osso, così a meno non si vede il sangue che sta male. Prima di impiettare l'asciughiamo un pezzo di carta, così si evita di mangiare il grasso. E l'orecchio è pronto.